Salve a tutti ragazzi, bentrovati su Crystal Cross Gaming Box con un nuovo episodio della nostra serie Final Fantasy VII Rebirth. Bene, siamo nella nuova zona, dopo tutte le varie vicissitudini spiaggesche, diciamo, abbiamo iniziato a tritare il posto vero e proprio. E abbiamo cominciato con le prime torri, i primi eventi, questo che effettivamente è un tantinello scomodo perché è un incarico secondario di recuperare i materiali e questi qua stanno in giro qua e là, veramente. E sì, ce n'era uno qui per dire e ecco sì, questo è abbastanza scomodo. Però, però, detto questo, direi che è il momento di andare, cioè, in carico di Jinan, che è il ritrovo infestato. Partiamo. C'è ancora il ciocobo dove l'avevo lasciato, perfetto. Ehi, 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 tu, dove vai? E' il ciocobino. Aspetta, c'è anche... Aspetta che lo vedo. Lo vedo, lo vedo, lo vedo. C'è la teleferica che va fino all'assù. Ma come cavolo ci vado lassù io? Yeee! Grazie, grazie. Ehm... Sai che è? Facciamo questo, va, vediamo dove ci porta. Correll's divine sanctuaries contain knowledge of the summoned entity, Alexander. Long ago, a great but wicked nation prospered in Correll. Legend tells that it was wiped out overnight by a giant mechanical construct. A construct called Alexander. Ok, era semplicemente una strada tra le rocce, ok. Pensavo di dover salire chissà dove. Invece no. Allora, vediamo un po'. Segreti di Alexander. Vediamo come sono. Vediamo quanto difficile è soprattutto. Triangolo, triangolo. Ok, il cerchio. Il cerchio. Dev'essere perfetto. Yes! Che figo, Alexander. Come vi ho già detto, è stato un bellissimo ride di Final Fantasy XIV. Pronto. Va bene, grazie. Ora, dirigiamoci... Dov'è il Giacobbo? Non c'è. Tutto qua si può andare a qualche altra parte? No. Si può solo uscire. Ma il Giacobbo se ne è andato al diavolo di qua. Ok. Ehi. 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 Ah, i Mugol. Devo dire che l'ultima volta, avendo scelto di farli alla fine, è stata in realtà un'ottima cosa. Ok. Ehm. Ok. Ok. Quindi devo veramente arrivare lassù. D'accordo. Come ci arrivo? Forse da quella parte. Ok. Andiamo un po'. Ah, mi sa di sì. Ah, mi sa di sì. Sì. Sì, sì. C'è questo simpaticissimo sentierino. Ritrovo muscolare. Ah, ho come l'impressione che qua ci sarà un'altra di quelle prove di ginnastica, diciamo così. Allora, e qui abbiamo un altro materiale. Metti una teleferica. D'accordo. Metista, zinco grezzo. Bene, così. Allora, adesso. Il ritrovo muscolare, no? È andato che abbiamo preso zinco grezzo, però da smutazione forse c'è qualcosa in più. Vediamo un po'. Eh, in realtà sì. Qualcosa. Yeeey! Mega pozione. Origano arcano del pianeta. Oh, un livello ancora superiore. Zinco grezzo e benevolenza del pianeta. Ah, bene. E corteccia antica e benevolenza del pianeta. Va bene, questi... Un po' per volta. Aspetta. No, arcano del pianeta. Mi sa che è in un'area ancora successiva, vero? Sì. Ho come questa leggera impressione. Va bene. Andiamo qui. Ha. Ah! Well, we'll happily help you both become your best selves. Train with us as long as you like. You mean it? Well, I might just take you up on that. Here's a question for you, Cloud. What would you say is the key to a good workout? Fair enough. The heart is the strongest muscle. But I'm not too concerned about that. As you know, our passion for getting pumped up is second to none. Now let's get down to business, shall we? The reason I wanted you to stop by? Monsters have been spotted skulking around the facility and I want them gone. Okay. Should be easy enough. Splendid. We can't train our bodies unless our minds are at ease. So you'll be doing all of us muscleheads a big favor. Caccia le belve nel ritrovo. D'accordo. Caccia le belve nel ritrovo. Let's get out there and kick some ass. Someone's excited. Well, yeah. Wanted an excuse to work up a sweat. And now I've got one. Wonder what little Tifa would say. I think she'd be pretty proud. Allora, saranno loro? Probabilmente, sì. Keep it together. Yes, it's my turn. See ya. Here it comes. Come on. Don't look now. What is he about to get real? Bang, bang. One shot at a time. No time for a serious ass. You ain't get your ass out of here. You can't really go wrong with steak, I guess. What? Huh? Oh, sorry. Just some mental meal prep. The ideal post-workout dish. Hm. So, you were the one behind 7th Heaven's menu? Half was a holdover from the old donut. The better half was mine. Oh, should I eat there more? Yeah. You snooze, you lose. Okay. Eh, gli altri... Eh, ma... Ah, vabbè, ma saranno probabilmente in tutto questo circolo intorno al... A questo piccolo promontorio. Andiamo un po'. Se è così come l'ho pensata. Sì, infatti... Lì c'è un altro bel gruppetto. Io sto elicottero, guarda, non capisco che minghia sia. Sì, sì, te lo indica proprio. Sì, sì, te lo indica proprio. Hey, Cloud. Would you say you're a picky eater? Soldiers can't be choosers. We ate when we were fed. Well, I used to be super picky, actually. Really? Used to be. Not anymore, though. Can't be choosers in the slums, either. What about crab? Not a fan. Heh. Yeah. Me neither. Che bello avere Barrett quando si tratta di nemici volanti. Yeah. Special deliver. Gotta look. Don't look now. This is about to get free. What kind of meals do they feed soldiers? They put a lot of thought into making them healthy. Not much into making them tasty. Ugh. That face says it all. You know, it's funny. What? Didn't realize it at the time, but We ate pretty good when we were kids. Yeah. Homegrown fruits and vegetables. And great chefs eager to use them. And these beautiful memories. Of course. Come on. Come on. Cloud sta piano piano evolvendo. Però è sempre... Mi sa tanto che un altro gruppo sarà per forza di qua, dai. Anche se onestamente non li ho visti. Anche se è sempre disadattato, Cloud. Qua si va verso la principale. Per carità, fra un po' ci andremo, eh. Nel senso... Non manca... Non manca molto, credo. Ok. Lì vedo un fungone gigante. C'è il posto, quello dei Mughal. Dove cavolo sono? Che mostri ci mancano qua? Io ne sto approfittando per prendere un po' di materiali, eh. E di zinco grezzo, per esempio, questo mi serve. Per fare parecchie cosette. Però non c'è verso. Aspetta. Sta a vedere che... A parte questo, che mi stava per sfuggire. Sto cercando di vedere dove cavolo sono. I mostri in più. Ci manca un gruppetto. Ah, vedi? Ecco, sì. Era proprio sul promontorio. Ehi, che cavolo. No, sono un cretino, scusate. Lado. Perfetto. Vai. 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 Guardi tu due took care of our little monster problem. Can't thank you enough. Now we can get back to training fiend free. Excuse me. Sorry to butt in, but you wouldn't happen to be the one who beat these guys in a pull-up contest, would you? Uh... Watch it, rookie! Don't badmouth us! But that's how it went down, right? You're Tifa, right? After I heard how you crushed it, I knew I had to join the gym. You're the reason I'm here. Oh, wow. And I'm not your only fan. Look, all of us signed up because we wanted to be just like you. It's just as she says. Thanks to you, our female membership has absolutely skyrocketed. Needless to say, we're very grateful. I didn't really do anything. Are you kidding me? You're literally my inspiration. which is why I... I want to tell you to a sit-up contest. Ecco, lo sapevo. Uh, right now? So you know, Amina's been training to achieve your look, Tifa. You'd be helping her measure her progress. Let me sweeten the bill. If your ads prove superior, I'll add a bonus to your reward. How's that sound? Okay, di nuovo. È la stessa di... Ah, proprio quanto è bisogno di indicato lo schema. Allora, aspetta, vediamo un po' come sono. Vai. Infuso a rapido, grazie. Allora, vediamo se mi ricordo bene. Don't go easy on me, okay? Allora. Allora. Don't you ever get sore? Truly incredible. Just like that. Incredible form. I can't get enough of those beautiful muscles. That was perfect. You're killing me. Go up. You're both so stonate. It's almost like your muscles are singing. Venti, che cazzo di stronzate stanno dicendo quegli altri? Oh man. Ok. I'm at a loss for work. Yeah, keep it up. Incredible form. Beautiful. Yes. Oh, mi ricordavo. Yay. Wow, you've got abs of adamantites. Thanks a lot. but you put up a good fight though. Like I said, you're an inspiration to me, to all of us. Nobody's born with a beautiful physique like yours. I can tell you poured gallons of blood, sweat, and tears into your training. Honestly, I... I... Sorry. Thank you. Glad I could help. Well, actually, I was hoping that if it's not too much to ask, would you, Teva, be my muscle mentor? Me? Really? I don't know. By all means, you have my blessing. If you don't mind dropping by from time to time, I'm sure she'd benefit from your advice. Might as well. Nothing made you do. If that's what you want, then I'll back you up. Oh my gosh! Thanks, Coach! Okay, people. Muscle mentor. Has a nice bring to it. Here you go then. Your extermination fee. And it's promised a little extra for helping her out. Probabilmente ci sono anche le altre sfide. You're always welcome. La partita è aumentata. Perfetto. È molto felice, vedo. Ok. Attenzione. Qua ne abbiamo altri, però. Allora, livelli avanzati. Indicatore verde. Aspetta. Anteri muscola grazie alla fase di resistenza. Ah, ok. Questo è quello. Principianti, esperti, professionisti. Oh, ce ne sono altri. No, cintura master. Oh, cintura master mi sa che è figo come equipaggiamento. I'm going to crush you. Oh, che cazzo? No, l'ho premuto, dai. Dai, 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 su. Vabbè, dovrei essere ancora in grado di riprendermi, comunque. Dai, l'ho appena fatto. Che coglioni. Ma perché? Maledizione. Fammi ricominciare. Allora, mi sa che sbaglio il tempismo del grilletto alla fine. Ok, da quest'altro verso. eh sì, poi però devo azzeccare quello dopo, no, vaffanculo. che c'è che c'è che c'è l'ho appena che c'è che c'è che c'è Vieni Stai bruciando Ho vinto Ho vinto Ho vinto Di poco, ma ho vinto Bene Ma... ma come? Solo in questi gioco No Ho bisogno di trainare ancora più difficile Fai super suolto Super suolto Ah, va bene Adesso c'è quest'altro, d'accordo Va bene, va bene, va bene Allora, meditativa Noi siamo una materia che mi interessa poco, però Guarda questo Ah, che gioia Incrociato Keep it up You're killing it Shit You're crushing it Push through the pain That was perfect Just like that Great form It's almost like Your muscles are singing Truly incredible Yeah, keep it up You're crushing it You're crushing it Just like that Oh Vaffanculo Sbagliato, sbagliato Dai, dai, dai No, 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 no Sbrigati Ok Ok, ho vinto Anche qui di poco, però L'ultimo mi sa che sarà tosta Fammi indovinare L'ultimo Ecco, sarà contro lui Scommetto Infatti Vai Vediamo se me la dà la cintura master Don't forget your game face Game face Ah, bene, al contrario No, vaffanculo Pessimo Dubito che riuscirò A venirne a capo Stavolta Ecco, adesso ha cambiato Incredible form It's almost like Your muscles are singing You're crushing it So long Great form Poetry in motion Yeah Keep it up You're crushing it Where that comes from? Yeah, keep it up Just like that You're crushing it Dai Noo Vaffanculo Quello verde lo odio Just have fun with it Dai 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 so Dai dai so Great form Yeah, keep it up Show off It's almost like Your muscles are singing Yeah, keep it up Yeah, keep it up You're killing it Where's that come from? Yeah, keep it up Noo Che cazzo Come ho fatto a sbagliare una cosa così stupida Vaffanculo You're crushing it Temo che non mi recupererò più Temo Si Vabbè, ciaoone Dai Ci riprovo un'altra forse altre due volte Dopodiché Non voglio perderci troppo tempo qui Isk No, no Dover No No He's tetes No 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 Grazie a tutti! No, ho sbagliato! Vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo! Ti prego, dimmi che fallisce almeno una volta, perché se no non lo recupero assolutamente più. Ok, sì, ha sbagliato. Dai, no! No! Che odio ce l'avevo quasi fatta, dai! Perché sti errori di merda? Mannaggia a me. Le voci di quei coglioni là mi stanno disturbando, maledizione. No, no! 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 Come ho fatto a sbagliare sta cosa! Posso ancora recuperare, dai! No! 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 Sì, è venuto giù! Sì, è venuto giù! Ok! Ottimo, dai! Ho la possibilità di recuperare! Forse! No! No! Non ce l'ho! Merda! 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 Che fastidio, dai! Che fastidio, dai! Ci voglio riuscire! No! numerousi che fastidios 대�iùng. Paci! Uno stade e Renata. Unnierenicamente con ilono, dai! Unnierenicamente con ilono. L Sì, finna Ale! perché cazzo marda dai dai è ancora recuperabile se non faccio altri errori è recuperabile è è quasi che i nostri sono cantati incredibile form è è è è è non non è è è è è è è no quel coso verde di merda che li odio di odio veramente no per come vabbè meglio perdere adesso piuttosto che in là perché poi si rallenta e recuperare diventa un disastro quando sbagli quando stai andando veloce è un casino no Dai, dai, è ancora fattibile Oh, quello verde di merda No! Vabbè, basta, 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 basta Mi sono stufato Quel cazzo di coso verde, veramente quando stai andando veloce Come cazzo ti viene di andare a metà, guarda Veramente difficile Al diavolo, non me ne frega Via Sì, va bene, ciao Dai, andiamo avanti, va Madonna, che nervoso che mi è venuto Allora Non ci pensiamo, andiamo avanti, per carità Io direi Ebbè, onestamente direi di procedere verso la principale Perché poi Si tratterebbe di andare qua giù e Credo che la cosa migliore da fare sia dirigerci di qua Sì Perfetto Mai di ciocco Si sono anch'io, lo sa, te le mani Con quella prova di prima Hiking trail Ok Ok Allora service so we've got a walk you'll be fine fresh air nice view the view ain't all that not unless you enjoy staring at ruined reactors right you grew up around here didn't you let's get a move on hey wow the material is like super condensed mako or something right so so that means wherever we find mako we'll find material too all right timeouts over team let's go you know yufi when you're part of a team you can't just do whatever you feel like what so does that mean i gotta run everything by you first yep so that's the game fine permission to sing sir what permission to scratch my back sir permission to blow my nose sir didn't get permission to yawn yet do i get permission or not sure you can do it while you're warming the bench that's an abuse of power tyrant tyrant tifa tell me your secret how'd you put up with this jerk face good qualities outweigh the bad yeah by how much like 51 good guy to 49 jerk face maybe a little more than that so what like a 55 45 clip close to not youtube tifa tempo è buttare giù da un dirupo è un'opzione io ve lo voglio ricordare ogni tanto i think air might need a break sorry my legs are killing me let's rest here but if we stop now the material i mean the mystery men might slip away hey i know what to do i'll go on ahead and scout the area for us you guys can catch up later well see ya catch up later my ass i think i'd better go keep an eye on them barrett's not himself right now you know i know take your time okay no need to rush thanks will do oh allora qui c'è quasi sicuramente qualcosa di interessante uh tre mega pozioni molto bene allora che altro abbiamo qui ciondolo stellare ma lo faccio ce ne ho quattro addirittura guarda qua che arma è asta incantata ottimo eh allora un attimo però maggiormente materie scudo luminoso ok ma questa più debole però c'è una materia in più questa magica e spirito va bene dai devo ricordare di usare irith fatemi un po' vedere se con tutti gli altri che sai com'è mi è venuto un attimino il dubbio magari mi sto scordando qualcosa si può fare anche così ma è comoda sta cosa no manca solo irith con la nuova arma appena trovata allora cloud probabilmente non c'è niente che io possa fare con irith però una cosa è diversa red e ti fa pure soltanto 5 assolutamente sì questo non ce l'aveva no non c'è manco questo ok bene così riposino riposino non va Ah Ah Già finito così Ok Non so se No probabilmente no Incompenso Ah vabbè Ho solo due Diversi punti da cui salire mi sa Dai Andiamo a verificare Sì Ah già abilità dell'arma presa Ok figo Allora red Tu c'è qualcosa da No no credo di no abbiamo già visto Va bene allora Let's do this That'll do Moving on then Ehm Aspetta ma Qua vedo di mostriciattoli Non sarà la stessa di prima No Non mi sono rincoglionito No infatti siamo dall'altra parte Ah ma mi sa che questo tronco si poteva Vabbè Mi sa che ierite qua mi servirà comunque Come on Here it comes This one's for you Get it We'll make it quick How's this? Nothing to it No l'evoluzione materica ok aspetta che sto cercando di orientarmi è perché qua non è esattamente la cosa più semplice e c'ho sempre paura di farmi sfuggire qualcosa di figo ok adesso direi che va bene così abbiamo materiali cose cervi rail vediamo se qua c'è qualcosa invece quanto pare no per niente champignorco ma che dici no spariti i cervi no 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 Grazie a tutti. Mmm... Andiamo un po' a esplorare che... Qui da dove siamo scesi... Ok, va bene, va bene, va bene. Ok, va bene. Alcun senso ciò che ho fatto, va bene. Ho solo esplorato un pochino. Calma. Sentite un po', ma... Adesso con tutto lo zinco grezzo che ho trovato, magari... Eh, vedi? Sì. La lepreggiata. Io ti ho sempre l'artiglio. Va bene. Ho visto sbrilluccicare da lontano, questo. Questo va... Ok. Andiamo a vedere fino in fondo. Non so in quali punti si salga meglio. Però vabbè, dai. Non so in quali punti si salga. Oh, attenzione. Ah, guarda un po'. Questo mi faceva salire prima. Va bene. Ok. Così sia. Ma un metà. Ah, guarda un blessing. Ah, guarda un including subito. da che parte andare un'occhiatina da entrambe le parti ok grazie grazie qua si sale decisamente si sale sì 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 no 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 bene così direi anche delle altre simpaticissime bestiole no no bello l'ultimo colpo no 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 sacco di casse mi stavo per sfuggire Grazie a tutti. Ah, che cosa c'ha dietro? Un altro robottone gigante da abbattere? Ah, che cosa c'ha dietro? Un altro già fatto, riposino tattico. Ah, che cosa c'ha dietro? Oh, di nuovo lui. Di nuovo loro, anzi. Il pelato. Ah, che cosa c'ha dietro? 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 Wow. Ok, vento e elettricità. Ok, bene. Ah, che cosa c'ha dietro? Ah, che cosa c'ha dietro? Go for it, guys! Ottimo! Sai che è? Una cosa assurda, ma... Ho intenzione di usare Erid. Questa è una cosa assurda. Questa è per te! Puoi prendere un po' per me? Questa è una cosa assurda. Questa è una cosa assurda. Questa è andata! È andata a te! Non è per l'ora, è andata. Ho bisogno di prenderla. Invochiamo la Fenice. Non l'ho mai vista ancora. Prendete! Ci sono unitani. Tutti! Ogni è per me. L'ho ma. L'ho ma. Non lo so, è un po' per me. Questa è la prima. Ho bisogno di prendere. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oh, perfetto. Mmm. 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 Oh, is that a weapon? Based on available information, it would seem so. They supposedly appear when the planet is in danger. And each one carries an enormous orb of materia, more specifically an orb from which they themselves were born. They are living enigmas, organisms dying to be understood, and finally my dream of capturing one is within reach. Oh, what I wouldn't give to be the one last pack, pull it apart. And see what makes it tick. What? Your wish, professor, will soon be granted. We'll all get what we want once that materia is ours. This is ridiculous. Why waste time monster hunting when we're on the brink of creating the materia ourselves? I'm aware of your efforts, but it would behoove us to obtain naturally occurring specimens as well. Well, they would look good in the lobby. Well, they would look good in the lobby. Put them in the bathroom for all I care. Just leave me the carcasses. Those I'll take. Mr. President, please What is this really about? Wu Tai is after them Well, talk about burying the lead Heidegger, I'll need troops My finest for the Madam Director Mr. President Yes There's a question I never had the chance to ask your father Perhaps you could speak on his behalf We used Avalanche's activities as a cover To sabotage our own reactors and destroy Sector 7 Your father assured us these acts were in service to the Neo Midgar project However, the fact remains that we have yet to locate the promised land of legend Or even confirm if it actually exists Great though he was My father was old And in his dotage, he became rash But while we're on this subject, there's something I've been meaning to ask all of you regarding those decisions Why is it that none of you even tried to stop him? Shinra must change We must break new ground Grow stronger, smarter Observe, adapt, expand, control My father built his empire with your loyal support And I demand the same I expect you all to prove that you are devoted not only to the company, but to me Oh, lui Passifondi del settore 5 Casa abbandonata Ok Oh, controllo lui adesso Oh Ma Elmira? Elmira Isaac, right? Yeah Where is she? Upstairs No, anche Cloud I'm going to take her home Now slow down I've been to your place Shinra's got it staked out Not anymore They have bigger things to worry about But And I can't leave her with you Of course you can Just look at Cloud I've been taking care of No, you haven't Look at the state you've left her in You didn't even wipe her face For goodness sake I'm sorry Your note had me worried And now that I'm here I can see that I was right to be concerned I brought a wheelchair for Aerith But if Cloud's coming too You'll just have to carry him Think you can handle that? Yeah I can do that much That's Aerith's uh Yes I know Huh? Aerith! Is she okay? You're okay Right Aerith? Hmm Hmm Hey Elmira Yes What happened to this place? The world's ending At least That's what everyone's saying Aerith Aerith Hey Which way do you think Midgar is? It would be east of here That way I wonder how my mom's doing back there She seemed fine when I saw her Maybe a little worried She's gonna hate me for this Talk to her as soon as you get home She'll understand Really looking forward to that conversation In effetti Ok Bene Qui abbiamo sfondato quello che c'era da sfondare Eccola qua la cretina Sorry Sorry we're late You okay? Yep Really worked up a sweat So how'd recon go? All clear No nasty surprises We managed to catch her Before she could get as far as the reactor Which is the whole reason we're here So hurry up Or those hooded guys will beat us to it Bene Hey Hey so what's the deal with all these creepy hooded guys anyway? They're Shinra's victims Huh Well They're in good company I'll give them that How you figure When Shinra invaded Wutai it was Pretty bad They leveled towns Killed thousands And when the dust settled They forced some BS truce on us I thought both sides wanted a ceasefire The old geezers at the top did yeah But the rest of us were pissed They'd been running Wutai into the ground for years It was the last straw We were done Everyone was ready to kick those old farts to the curb And that's when Colonel Lodbrok's team showed up Three ex-soldiers ready to join the cause Who'd you say? Lodbrok His squad saved Wutai from those senile old fossils Paved the way forward They didn't do it alone though While the colonel's crew was rallying the people Their friend Viceroy Sarufe agreed to help Then bam Revolution And that is how the interim government was born Revolution huh? Y'all did good But why the interim? Because once this war with Shinra's behind us The whole country's gonna come together And decide what kind of government we want Which is why we're doing everything we can To make sure the interim ends in independence Pretty cool right? Just gonna stand there? Let's get going Eccola che riparte A proposito Si arriva col gruppo originale Diciamo Hey, come look at this Hey, come look at this Hey, come look at this Yep Then it's gotta be hiding Some ginormous materia Woohoo! Oh, I'm gonna be so powerful It's scary Oh, I'm gonna be so powerful Oh, I'm gonna be so powerful Oh, I'm gonna be so powerful Bang A weapon Huh? Tutelary creatures Said only to appear When the planet is in grave danger Hojo has sought them for years Did you see what was inside it? That had to have been The biggest freaking materia ever! Just gotta figure out How to catch that overgrown fish That guardian of the planet? Whatever I'm not about to let a materia That beautiful get away And just so we're clear It's mine I called it Cool You fish Huh? We'll keep moving Hey, not cool This isn't goodbye Sweet weapon I'll be back for you soon A guardian beast like that Wouldn't show up Unless Jinra had really Pushed the planet to the edge Meaning Avalanche was right about The threat they posed all along We were, weren't we? Yeah But don't forget Shinra's not the only problem Right Sephiroth is still out there He is And talking won't stop him What? 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 Qualcosa qui? No Funziona ancora? Stiamo scendendo sotto Miniera Miniera di carbone Accesso al reattore Ok Puoi di nuovo Usare lo spostamento Rapido Buono a sapersi Eh Però Non è esattamente Una buona idea Perché qua Temo che poi Sulla mappa Non ci sia il punto Per tornarci Giusto? Già Quindi Quindi Decisamente Qualunque altra cosa Che vogliamo fare Dovrà attendere Qui cosa abbiamo? Champignorco Di nuovo Aspetta C'è Vabbè Continuo a lasciare Dei pezzettini Ammulito a tavico Ammulito a tavico Ok Non manca Non manca moltissimo Non manca non manca fino a che ci spettiamo. Alla cosa succede. Cosa? Tu conosci questa area, non ti? La città di controllo è lì, a la cima della clifta. Come ci siamo arrivati? Cosa? La città. Non ci sarà un passaggio nel paio. Il paio è stato abbandonato per anni. No? No, stiamo lavorando sui. Aspetta un minuto. Hey! Cloud! Come on! Che gli è preso? The botto di nuovo. Forse anche lui sta subendo questa cosa di Sephiroth. Mi sa. Oh no, come! Come... Ah, con triangolo puoi lanciare lo Shuriken per distruggire le cacce Shinra più lontane. Ah, no! Quindi devo usare Yuffie per forza. Bene, fantastico. Ok, scusate del piccolo taglio, ragazzi. Dai. Ok. Hm. No, va bene. Non posso fare altro. Vabbè, facciamo la stessa cosa con Yuffie, va? Tchah! Vabbè. No. Sì. No. 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 No, no. c'era anche il telefono dei tempi della miniera, va bene, sì tanto per cambiare vedi? vedi? c'era questa parte che non avevo visto con 1700 kill che mica fanno schifo insomma va bene si va bello che me le mostra perché se no mi sarebbe andata così liscia e mi sarebbe scappato sicuro qualcosa guarda che c'ho barre una smistamento ok ok uh uh which way uh with that thing but we're gonna have to power it on first the generator's just across the way gotta use that grappling hook should be should be should be problem for you right ok andiamo un po' cos'è il rampino cerco un punto adatto per agganciarlo con l2 e poi procedi con il salto ok ok serpi gemelle oh bene ok no aspetta vabbè anche se fatemi vedere un attimino magari no vorticante vorticante uh aspetta un po' diciamo così le varie prerogative vabbè le tengo così per adesso non mi interessa particolarmente altro bene non è una cosa da calcolare particolarmente tutto script tardi ma se ya la a insomma ok Esploriamo un attimo, va Ok Ok, quindi di qua non c'è altro a parte Aspetta, aspetta, c'è tutta quest'altra parte Un attimo, eh Andiamo dove ci porta questo Ah, solo, ma che davvero? Sono uno scrigno Va bene Come non detto Questo non è? No, vero? Non funziona Il censore è spento, va bene Non è vero che è spento, eh Non attivo Oh, guarda un po' Bello, ma Trovate a strada Oh, guarda un po' Oh, guarda un po' Oh, guarda un po' Oh, guarda un po' Fatto? Yes Sembrava di averle viste Ok Siamo arrivati da qua Di qua non c'è niente Poi da qua possiamo solo andare avanti In quest'altra direzione Oh, guarda un po' Oh, guarda un po' Oh, guarda un po' Ah, ok Posso prendere di mira quella Ma non so bene da dove Ah, no Ok, 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 ok Ho visto, visto, visto Wow, 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 wow Bella miseria Ma che figata Allora, è rimasta su D'accordo Ma... Ma adesso Ma di qua Con semplicità Qui Qui Aspetta, 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 aspetta Mi sembrava Mi sembrava di aver visto Mi sembrava di aver visto Infatti Aspetta Sì, 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 sì Belli preggiate Va bene Va bene Ok 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 Ehi Altre due mega pozioni in sconto Direi che va benissimo Oh Un'altra Vabbè sì dai Quanto anche decidessi di venderla Credo che Varebbe la pena per quello che l'ho pagata Ok Pulso tonante vai Che no Il ritorno non c'è niente Ok Yuffie Non c'ha proprio niente lei Va bene A posto Cos'è ancora dai Qua vedo un bestione di quelli simpatici Allora chi è che ha analisi a parte Parte cloud Non c'è nessuno vero Ne la potrei mettere In effetti In questo momento a qualcuno che aiuterebbe Dove sono finito? Oh salve Dove sono Aspetta perché non ho finito di esplorare qua Guarda qua cosa c'era A proposito Abilità di Yuffie Pioggia di piombo Oh Ero scordato completamente di usarla Pesantissima arma d'abbraccia Bocca molti Mi credo di ridurre Mi concola brodo Spirito di squadra sarebbe l'abilità Ok Va bene Ah l'ascensore non è in funzione Ok 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 Dove che dovrebbe andare Ok di qua Ok 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 3 vertebre di belva Ok 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 Ma dove devo ripassare? Non vedo Non credo che sia una grandissima idea andare di qua Ah Con semplicità Stava andare in acqua Ok siamo tornati qui ma aspetta Io qua avevo come l'impressione che mancasse qualcosa Infatti aspetta Come ci vado là? Oh ma che è ricomparsa questa? Fammi pensare Fammi pensare Lì come ci arrivo Ah da lassù Quindi No more games Come diavolo ci arrivo lì? Come diavolo ci arrivo lì? Aspetta forse Ok forse lo so Un attimo Un attimo Un attimo Penso che si è attivato questo Forse andando qua su Oh salve Fita dell'arma Perfetto Lei di animale Lassù vedo una materia Telecombattiva Ce ne sono Di meno di materie in giro In questo gioco Sono più delle ricompense per missioni O cose del genere Oh fantastico Spento anche questo Un attimo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oh, salve. Non mi rompere le palle, madonna. Grazie. Ah, sì, dai. Ah, chi se ne frega. Quello ho già fatto prima. E attiviamo anche quest'altro. Tutto costruito di legno, cioè tutto diroccato, abbandonato da anni, però il computer è ancora lì acceso, bello pimpante. Bello responsivo, insomma. Posso decidere di tornare anche giù? C'è quella parte che veramente mi disturba che non abbiamo trovato, che non abbiamo esplorato. Vabbè, non può riuscire a ogni cosa, no? Oh, un nido di ciocobo. Mamma mia, se sei brutto. Iniziate a sparare, magari. Non mi lasciare. Non mi lasciare. Ne ho bisogno di un'altra parte. Ne ho bisogno di un'altra parte. che non ce l'abbiamo. Non ce l'abbiamo. Ah, in pieno. Regno. Mamma mia da. Oh, e adesso... Oh Yeah Eh, mi ha fatto molto male. Aspetta, ma che è il vortice? Ma dai, ma che sei serio? Mamma! Mamma! Non serve neanche all'ultimate C'è? C'è? Leave me alone Hey Someone has a fan No fair Got enough hangers on already But fine Hey hey, check out its head Does it remind you of anyone? It's Cloud only cute Hehehe That settles it I hereby dub thee Cloud Junior Hey, we could take that minecart down Save ourselves a hike Not the smoothest ride But it sure is fast Me and Dine used to Forget it Let's just lower the bridge And get back to the others Hey, fa male la pancia? Ok Allora Aspetta, aspetta, aspetta Vediamo in giro se c'è qualcosa Perché magari No No Nada de nada Ok Ok One of these buttons ought to do it But Which one? Hmm I got this First that First that Then They did it Nice Right Now that the bridge is good to go Let's touch base with the others Roger Hello, hello This is Special Agent Yuffie Can you read me, Commander Cloud? How you doing? Feeling better? I'm good We'll take a cart back down You three follow the tracks until you hit the bridge into town Figure we link up there before heading in You copy? Copy Oh, and set our route while you're at it, will you? The gentler the ride the better Don't want anyone losing their lunch I'm begging you, Cloud, please I wouldn't mind some excitement, but what are you gonna do? Hmm La version intensa La delimitata, eh Va bene Ehm Hanno ricominciato ad andare Va bene Ragazzi, allora Io direi che ci possiamo fermare qua con questo episodio Stiamo facendo tutta questa parte, diciamo, della principale Ma tanto poi torneremo a tritare nella zona più ampia D'accordo? Al prossimo episodio, gente Mi raccomando Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto Iscrivetevi anche al primo canale E seguitemi su Twitch Lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto E qui sotto in descrizione Trovate come sempre tutti i link ai miei social e community Come Instagram e Telegram Tutti i link per supportare il canale Tra cui i link affiliati ad Amazon, Instant Gaming Link a Patreon Link alla playlist con tutti quanti i video della serie di Final Fantasy 7 Rebirth E anche il link per acquistare il gioco E se lo acquistate tramite questo link Aiutate e supportate moltissimo il canale D'accordo, gente? A presto!